A Civitella del Tronto la notizia dei migranti positivi da Covid-19 comunicata dall'Asle di Teramo ha ovviamente suscitato scoramento ma non preoccupazione dal punto di vista della sicurezza. Una situazione sotto controllo visto che i migranti collocati dalla prefettura di Teramo sono stati messi in isolamento fin da subito con controlli H24 e nessun contatto con l'esterno. La struttura che li ospita è raggiungibile solo in auto e a circa 8 chilometri di distanza dalla Rocca dei Borboni ed è presidiata dalle forze dell'ordine ma preoccupare maggiormente i cittadini e l'amministrazione comunale non è il rischio di contagio ma l'immagine negativa che questa situazione può portare a Civitella in un momento così delicato dal punto di vista turistico. La vita quotidiana qui del paese scorre tranquillamente. I ragazzi sono confinati e sono proprio lì al limite con i comuni di Campri a 8 chilometri da Civitella e fare terrorismo su queste persone sinceramente e anche a livelli alti, io parlo di a livello provinciale, regionale, hanno creato questa bomba che non ci voleva specialmente in questo periodo di Ferragosto. Però i turisti io come vedo continuano a venire perché a Civitella non c'è nulla, assolutamente nulla. Mi preoccupo proprio per niente, mica sono malati, sono positivi. Si metteranno 15 giorni a casa e finisce tutto, sempre con questi immigrati. Rovinano pure Civitella del Tronto che è bella come turismo e i commercianti, i negozi, ma che vuol dire? Il borgo è super tranquillo, vivibile e fruibile tranquillamente, quindi per noi non ci sono assolutamente problemi. Preoccupazione confermata anche dall'assessore Gabriele Marcellini. Sto notando con amarezza uno scollamento istituzionale. Avverto ormai da anni, con esperienza di terremoto, la grande frana di Ponzano, incenti nel nostro territorio, come sostanzialmente il principio di sussiderietà che alla base della nostra Costituzione si è rovesciato completamente. Ciò che non riescono a risolvere gli altri lo deve risolvere il Comune. Noi che dovremmo essere quelli che hanno tutti i compiti, ma quando non ce lo facciamo altri dovrebbero venire in nostro aiuto, ciò non accade. Quindi in questi giorni il danno che stiamo ricevendo è il danno d'immagine. Non c'è un problema sanitario per il momento, è tutto sotto controllo, però ci troviamo sulla stampa con bomba ecologica, bomba virologica, bomba e si spaventano i turisti in un momento storico dove noi abbiamo un aumento di presenze senza precedenti degli ultimi 7-8 anni. Uno dei timori è che gli ultimi arrivati possano essere entrati in contatto in qualche modo con il precedente gruppo, anch'esso composto da 50 ragazzi poi dislocati sempre sul territorio provinciale. C'erano, erano tutti negativi, sono stati mandati via anche in maniera secondo me non consola per la loro dignità, cioè di notte perché il giorno dopo sarebbero arrivati diciamo questo altro contingente. Quindi non c'è stato minimamente contatto fra chi era precedentemente in struttura, peraltro ripeto tutti negativi al Covid, con coloro che oggi attualmente sono nel centro Cassa. Grazie a tutti.